E' cattivo non curarsi, stiamo un'ora a curarci quando questi stanno in piedi due secondi. Dobbiamo fare i geni. E' così, soltanto! 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 Mi hanno preso! Aiuto! Medico! E' così, soltanto! 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 Grazie a tutti. non c'è una macchina mazzarico assai Mitsuya! Mitsuya! Pericolo laggiù! Pericolo laggiù! Pericolo c'è un'altra voce da due secondi Perché non ci spawnate più Cazzo, c'è qualcuno Ok Due Esiglio un'esistenza di individuazione su tre nemici Stanno sparando nella trincea, nella trincea Cazzo che mi sto sparando però Ma sono da F Qua già non mi vedo in più L'obiettivo conquistato Come i figli di Frandex Evviva! Hanno preso anche la torre di comunicazione Quindi sono abbastanza nella merda Ah, che ciccata Ah, stanno pigliando Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap non dovrebbe essere uno che sta prendendo la bandiera individuato ok l'ho visto l'altro è la eh mi dispiace bene i miei ci avete provato a prendere sta bandiera forse siete gli unici dall'altra parte che fate qualcosa questa fazione fa proprio cagare sbattono tutti i coglioni cazzo c'è quella gente non è di qua ok ecco eh qua non ci spawnate più eh questo che fa come aerodromo aerodromo sono proprio arresi digami sfigati se è solo un pochino ne lo prendiamo in testa affanculo figa la resca manco in testa mi prende dio cane o mi hanno colpito aiutatemi ah cagava la gente quella ti ammazza ti spara un colpo a cazzo di cane perché sei ferito tutto perché colpisci esca e vieni spottato a chilometri no che cazzo di senso c'ha dio cane vaffanculo guarda lo giro sto capitolo guarda proprio oh stai avanti o indietro ostia eh sì tre quattro non lo sentiamo mi sa 66 togli ah ma un po' gli stessi eh non c'è morti qua il suo è tornato a nostro sembra una tregua difendiamo l'obiettivo ah su A e su C li vanno fuori subito dovunque ma è qui te lo trapasso il regno ti faccio meno danno ma ti trapasso non c'è ancora gente andiamo a dare una mano hai finito di vivere bella partita del cazzo